Ben ritrovati in questo secondo spazio di Telebari Social Night, ho il piacere di presentarvi qui con me il Procuratore Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica di Bari. Procuratore, è un momento di grande difficoltà economica, sia per le imprese sia per i cittadini, c'è il timore dell'aumento dell'usura? Direi di sì, nel senso che noi non abbiamo dati statistici significativi, però indubbiamente in momento di crisi economica la situazione un po' particolare della difficoltà delle banche, eccetera, sta comportando un aumento di questo fenomeno dell'usura. I procedimenti per usura sono molto difficili da gestire perché in qualche modo a volte si crea un alleante tra usurato e soggetto che presta soldi e usura. Però devo dire che negli ultimi tempi stiamo ottenendo degli ottimi risultati grazie a bravissimi colleghi con diverse misure cautelari e sequestri. La criminalità barese si sta riorganizzando con anche nuove leve e l'abbiamo visto anche da alcune indagini arruolate dai clan. Temete degli effetti sul territorio e anche di che tipo? Il problema più serio purtroppo è che la criminalità organizzata, soprattutto sui giovani, sui ragazzi, in qualche modo ha un grosso fascino perché crea un'identità. Cioè il ragazzo che incontra una struttura molto precisa, determinata, con dei ruoli di potere ben delineati, con un'attenzione sociale anche rispetto a questa figura dell'appartenente a un clan, ha una grossa attrazione, soprattutto lì dove non ci sono situazioni di profondità culturale o di identità sociale forte. Quindi l'effetto che si ha è quello in qualche modo di avere una forte attrazione, tanto che abbiamo visto che vengono a essere inseriti all'interno del clan anche persone molto giovani e questo è un problema serio. Si entra più facilmente all'interno della criminalità organizzata, il cosiddetto ingresso attraverso dei riti avviene sempre di più tra giovani e questo è un vero problema. Certo dipende anche un po' dai territori e dalle situazioni. Sicuramente il territorio foggiano è un territorio molto complesso. Il territorio foggiano è un territorio complesso, soprattutto via una presenza di comunità organizzata che è più capace di governare il territorio, in senso negativo ovviamente, però va detto che lo Stato in questi ultimi anni, al contrario del periodo precedente, sta dando una risposta forte, decisa, determinata e sono sicuro che anche lì verranno liberate molte zone del territorio dall'oppressione dei clan e della criminalità organizzata. Bari è cambiata, lo dicono i dati, è diventata una città dove c'è un boom di turismo, è diventata e soprattutto è una città turistica sicura? Sì, direi di sì. Insomma, io ricordo quando appena entrai qui in procura Bari, parliamo di molti anni fa ormai, ideiamo questa iniziativa giudiziaria che la chiamavamo Welcome in Bari. Praticamente individuiamo una serie di soggetti, facevamo gli scippi a tutti i turisti che arrivavano e quindi facciamo molte misure cautelari, riducemmo almeno questo fenomeno. Oggi questo fenomeno non c'è più nelle dimensioni che c'era prima. Prima i turisti venivano scortati, nel senso che venivano scortati dalla polizia. Ora il fenomeno della criminalità c'è, ma sicuramente è molto ridotto, basta fare un giro al centro città oppure la riconquista che Bari ha fatto della zona, diciamo, della Bari vecchia, cosiddetta, del centro storico, del centro borgo medioevale. È un grande risultato, veramente un grande risultato. Un risultato importante perché ha portato anche ad avere oggi dei dati molto importanti, insomma sull'incoming, soprattutto sulla città di Bari. Si parla di anni di una zona grigia del tessuto sociale ed economico di questa città. È un fenomeno che vi preoccupa, Procuratore? Più che ci preoccupa, è un fenomeno che esiste e che ha una certa dimensione, cioè una tolleranza da parte di una parte dell'economia rispetto, diciamo, agli entroiti della criminalità organizzata. In alcuni posti di più, in alcuni posti di meno, ovviamente nel Foggiano è molto più intensa la questione. E questa tolleranza non è possibile, perché in realtà se tu ti fai, diciamo, tra virgolette, accetti che dei soldi della criminalità organizzata vengono investiti in un negozio, in un bar, o accetti soldi in nero da parte di soggetti ambigui, eccetera, aiuti questi stessi soggetti a spacciare i stupefacenti, a commettere omicidi. Quindi c'è una responsabilità morale rispetto a questo. Se io tollero questo fenomeno, è ovvio che tollero anche che questi soggetti commettano reati molto più gravi. Purtroppo bisogna dire che c'è un'ambiguità anche, per esempio, rispetto al fenomeno dell'evasione fiscale, sul termine nel senso ampio, perché in queste zone grigie entra a gran forza la criminalità organizzata. Si pensi a gestione di alcune cooperative, in cui c'è l'ingresso della criminalità organizzata. E quindi questa zona grigia, così definita, ma comunque io direi di tolleranza rispetto a certi fenomeni, indubbiamente rafforza la criminalità organizzata. E recuperare invece il rispetto delle regole, il rispetto delle regole fiscali, il rispetto delle regole nella gestione dei lavoratori, eccetera, è il modo migliore per evitare che la criminalità organizzata si inserisca all'interno dell'economia. Assolutamente, questo è molto importante. Edilizia giudiziaria, la grande incompiuta, però ora siamo quasi a un passo dalla soluzione con l'ex casermette. Finalmente è il caso di dire, insomma, dopo tanti anni, procuratore? Finalmente, diciamo, per diversi anni vi è stato un grande dibattito, se fallo in una maniera o in un'altra, ora non entro in questa, diciamo, in questa diatriba. Ma alla fine la politica finalmente è scelto, ha scelto e si è mossa in maniera determinata. Devo dare atto, insomma, che il Ministero e soprattutto il Sottosegretario ha lavorato moltissimo per andare avanti su questa strada. L'amministrazione comunale sta dando una grossa mano. Stiamo vedendo, diciamo, una luce, nel senso che devo dire che l'agenzia del demanio che gestisce l'appalto, secondo la legge, ha dato dei tempi che ovviamente noi magistrati stiamo seguendo e li sta rispettando. Tanto è vero che è stata già vinta la gara per la progettazione, che è la fase più difficile in realtà, uno pensa che la fase più difficile sia la realizzazione. La fase più difficile è la progettazione di un'opera. È stata data l'appalto a una società, l'ha vinto con una gara e ora inizierà questa progettazione. Ci sta andando avanti. Ci vogliono i tempi perché è l'opera pubblica più grossa di Bari, dopo la realizzazione del Consiglio regionale. Maltrattamenti e femminicidi. I casi di cronaca sono ancora, diciamo, tanti. Ad oggi i dati sono, secondo lei, anche grazie al codice rosso, diminuiti o sono sempre gli stessi? Allora, la statistica è sempre una cosa ambigua, perché se noi andiamo a vedere tanti anni fa la statistica su questi reati era bassissima, ma perché non c'era, uno può dire, non c'era violenza alle donne. No. Tanti anni fa la violenza alle donne c'era, ma non era denunciata. Quindi, per certi aspetti, l'aumento delle denunce è un fattore positivo. Assolutamente. Perché vuol dire che le donne incominciano a far valere i loro diritti, giustamente al diritto di non essere maltrattate o violentate, e quindi sono aumentate le denunce. Il codice rosso, da una parte, c'è la legge sul codice rosso, che è sostanzialmente una legge che dice che gli interventi su determinati reati, come gli stalking, maltrattamenti, eccetera, devono essere fatti in maniera prioritaria e rapida. Riduco la legge, ma è molto più complessa. Questo è stato un fatto positivo, perché sicuramente c'era stato, anche da parte dell'autorità giudiziaria, una sottovalutazione. Non dappertutto. Devo dire a Bari no, perché Bari ha avuto gli stessi tempi di rapidità da molti anni, anche per l'intervento di Anna Maria Tostola, precedente sostituto, allora procuratore aggiunto della Procura, che ebbe molta attenzione per questi reati. L'intervento legislativo ha in qualche modo offerto una serie di tutele alle donne. Ora, a Bari, ma in moltissime città, entro un periodo breve, che può essere veramente rispetto a una giustizia lenta, in un mese o un mese e mezzo, ottenere una tutela immediata. Anche perché sono reati procuratore che accadono, come dicevamo, nelle mura domestiche. Per questo, come detto prima, prima non si denunciavano. Invece oggi, grazie a una tutela delle donne, molte donne sono più serene di denunciare, perché saranno tutelate. Rispetto a questo aggiungo però un'altra cosa, perché sembra importante. Allora, intanto noi abbiamo tutto un sistema per cui non è che tutte le denunce vengono comunque prese per buone, perché ovviamente ci può essere anche, e c'è, qualche denuncia strumentale per ottenere altri risultati in sede di separazione, eccetera. Quindi noi abbiamo un sistema che in qualche modo offre un filtro, eccetera. Però, c'è un però sempre, come ogni fenomeno, però è ritenere che lo strumento penale sia l'unico strumento di tutela. Ora rischio di fare un ragionamento che può sembrare un po' contro, diciamo, non come si dice, politicamente scorretto. Però lo devo dire, perché proprio per la tutela della donna va detto. Ci sono dei fenomeni che noi stiamo assistendo, dove per esempio rispetto a molte misure cautelari ci sono molte assoluzioni. Perché? Perché succede che si va a processo e molte donne ritrattano quello che hanno detto prima. E quindi portano inevitabilmente, siccome la parola che vale è quella del processo e non quella resa davanti al pubblico ministero, è un fenomeno che rischia quindi di provocare anche dei contraccolpi. Come succede? Che purtroppo anche le misure cautelari non sono sufficienti a fermare alcuni uomini. Perché, e questo io lo dico, questi strumenti non sono sufficienti, non sono idonei a fermare i femminicidi. Lo dico con dolore, ma è così. Un uomo che decide di uccidere una donna non lo puoi fermare. Lo puoi fermare se in qualche modo si incomincia anche una educazione al controllo della rabbia. Quindi al fenomeno, diciamo, a quello che si fa da un punto di vista penale bisogna inserire un sostegno psicologico per gli uomini nel controllo della rabbia. O della frustrazione di non avere questo governo, questa mentalità culturale che la donna deve possedere. È che è un problema psicologico grave, culturale, sociale, eccetera. Dall'altra anche il controaltare, anche questi di fenomeni culturali prolungati, del senso di dipendenza di alcune donne, per cui succede che dice, ma perché continui a stare con tuo marito e ti picchia? Perché lo amo. È una cosa che noi assistiamo molte volte in sede procedimentale. Lo dico non perché la colpa è di uno o dell'altro, ma perché bisogna, a rifronto a questi fenomeni, dare una risposta che non sia solo legata al dato del processo, ma che sia anche culturale o psicologica. Sono anni di grande sfiducia da parte dei cittadini verso la magistratura e verso la giustizia. Cosa dice alle persone che sono un po' sfiduciate? Uso una battuta che copio. Dice un grande autore, Zagrebeschi, il sistema giudiziario, più o meno così era la citazione, il sistema giudiziario è imperfetto, non rende sempre giustizia, ma il mondo sarebbe molto peggiore, si può dire molto peggiore? No, sarebbe peggiore se non ci fosse la risposta giudiziaria. Cioè la risposta giudiziaria non soddisfa il desiderio di giustizia della gente, perché è così, sia perché è così in generale, da sempre nella storia la giustizia è qualcosa di più del diritto, ma anche perché ci sono delle insufficienze che sono organizzative e di responsabilità anche dei magistrati, non voglio negare questo, ma di una complessità di un sistema che non sempre funziona. Ma se non ci fosse saremmo in una giungla. Assolutamente. E credo che quindi occorra avere fiducia in questo e sapere, come dico, che la giustizia è lenta, ma prima o poi arriva. Sempre così si dice. La pandemia ha inevitabilmente cambiato la vita di tutti noi procuratori. Cosa è cambiato nel vostro lavoro e soprattutto siete diventati più tecnologici? Sì, siamo stati costretti a diventati più tecnologici. La giustizia è diventata per questo più tecnologica, lo possiamo dire. Sì, lo possiamo dire. Perché si è capito che molte cose non è necessario farle in presenza, che in presenza si possono fare le cose che devono essere fatte in cui vi è necessità di una relazione, ma per depositare un atto non occorre che uno venga a portarlo cartaceamente. Stiamo lavorando molto, quindi questa accelerazione che ha costretto tutti, anche culturalmente, il mondo della pubblica amministrazione, che ha difficoltà ad entrare nel digitale. Ha costretto tutti a migliorare questo aspetto. Noi speriamo di poter migliorare anche la Procura di Bari. Abbiamo avuto anche di recente un aiuto dalla Regione Puglia rispetto a fare alcuni progetti digitali in cui vogliamo offrire dei servizi ai cittadini perché possano domandare senza farsi tanti chilometri, fare domande di giustizia su alcune cose. Questo è molto importante perché avvicina ancora di più anche i cittadini alla giustizia. Lei dirige la Procura di Bari, che è una tra le procure più importanti d'Italia. Cosa significa essere capo di una procura come la nostra? Allora, la procura è comunque una comunità. Ovviamente. E quindi quello che mi rendo orgoglioso è che è una comunità di belle persone, tutti i limiti, abbiamo i nostri limiti per carità, io ne ho più degli altri. però se devo pensare ai miei colleghi che lavorano giorno e notte, e devo dire che la stragrandissima maggioranza, non voglio dire, lavorano veramente giorno e notte, non sempre con i risultati che meriterebbe quello del lavoro, mi rendo orgoglioso. Poi i risultati non sono uguali a quelli della fatica che ci si mette, però sono felice di appartenere, orgoglioso di appartenere a questa comunità che è la Procura di Bari. Parliamo dell'uomo Roberto Rossi, ha sempre voluto fare il magistrato? Sì, sì, sin da quando avevo 16 anni, 15 anni, eccetera, era un'idea che ho sempre avuto di lavorare nella cosa più affascinante che è il diritto, che è quella di essere molto in teoria formale, ma in realtà è un modo di leggere la realtà, cioè il diritto non è mai astratto, perché parla di tensioni concrete, di problemi di tutti i giorni delle persone e quindi mi affascinava e mi affascina ancora questo, l'idea che una regola poi deve essere applicata nel vivo della carne delle persone, di cui bisogna avere sempre rispetto e umiltà e quindi è una capacità di capire determinati fenomeni concreti, operativi, non astratti. Quali sono i suoi hobby? Se ce li può dire, insomma. Ma non c'è niente in mano, mi piace viaggiare, per lo più mi piace leggere e mangiare. Procuratore, credo che il cibo unisca sempre a tutti. Come si vede tra 20 anni il procuratore Roberto Rossi e come vorrebbe come seconda domanda vedere Bari fra 20 anni, con i suoi occhi? Tra 20 anni spero di poter avere ancora la voglia di scoprire cose nuove, che è sempre la cosa importante e bella di questo lavoro, tra 20 anni sarò in pensione ovviamente, ma la possibilità di scoprire se uno è in salute, di vedere cose nuove, di scoprire anche nuove dinamiche, nuovi elementi sociali, nuove riflessioni. Spero di essere ancora così. Io spero che Bari invece continui ad essere quella che è veramente una città con una capacità di accoglienza e di sguardo verso l'orizzonte che ha sempre avuto. Da una parte è la città che ama e in qualche modo consacra come importante un gruppo di radri, che sono quelli che hanno rubato San Nicola. Ma dall'altra parte è una città che da sempre ha accolto i pellegrini, lo ha continuato a fare quando c'è stata la Vlora e gli albanesi. È una città molto accogliente. Io spero che questa cifra di Bari sia capace di continuare, di essere quindi un porto di pace da questo punto di vista. È assolutamente importante. Qual è il suo rapporto con i social, procuratore? Da pubblico ministero. Non scrivo ma guardo. Lo uso pochissimo perché credo che esista una necessità di riservatezza perché uno in qualche modo deve essere trasparente ma dignitoso e quindi il rischio ovviamente di non avere uno quando scrive sui social, pensa sempre che sta scrivendo a se stesso e in realtà scrive a migliaia di persone. Quindi ogni parasse, ogni parola deve essere responsabile anche rispetto agli altri. Però mi piace guardare. Al procuratore piace guardare. Procuratore, il mondo dei social è una trappola per i ragazzi. Cosa ne pensa? Allora il problema dei social è che ha questa doppia, diciamo da una parte sembra che sia una cosa tua privata e quindi tu scrivi come se scrivi a te stesso o all'amico eccetera. in realtà parla a un pubblico enorme e soprattutto parlando non a una persona ma a uno schermo i freni inibitori si allentano. Allora noi assistiamo per esempio a un utilizzo dei social enorme per per la creazione di miti della criminalità organizzata. Questo è un problema per carità è legato anche alle serie televisive eccetera che comunque hanno scoperto un mondo, non voglio dire che sono causa. Ma rischiano di creare anche queste situazioni nel quale tra il social e diciamo il mondo artistico si possano creare situazioni ambigue. Faccio un esempio. uno di questi cantanti eccetera melodici diciamo neomelodici tra virgolette ma sono molto legati alla criminalità organizzata. Allora cantano queste canzoni maresciallo non mi hai preso ce n'era uno eccetera. Abbiamo rivisto per esempio dopo operazioni non riuscite o persone non catturate che questa stessa canzone veniva riproposta all'interno dei social da parte appartenenti al clan. Allora qual è il problema? Non tanto voglio dire mi rendo anche conto e poi diventa anche sempre un guardie ladri. Quello che è pericoloso è che vi è un rischio di creare delle identità cioè una musica, un'identità sociale, un qualcosa in cui tu appartieni a un gruppo, eccetera, senza capire che invece la vita della criminalità organizzata non è quello che viene mostrato all'interno delle canzoni di alcune serie eccetera. La vita della criminalità organizzata è una vita di morte. Tu oggi ottieni più soldi, più potere ma questo è molto breve. Tutti quelli che sono all'interno della criminalità organizzata o finiscono uccisi o finiscono per lunghissime detenzioni. E la detenzione non è, al contrario di quello che alcuni dicono, il carcere è un bel posto, è un posto terribile il carcere. Quindi queste lunghe detenzioni conducono queste persone a fare una vita terribile e a farla fare alle loro famiglie. E questo bisogna dirlo. Quindi questo mito del, di quello che arriva, fa, io sono bravo, io arrivo e non pago, quindi ho la donna del territorio più più carina. Cioè questo mito che si crea, la canzone, vado, posso entrare nel negozio e ordinare prima degli altri, eccetera, è un mito. La realtà è una realtà molto diversa. Sì, c'è anche questo, però poi la conseguenza, che alla fine paghi un prezzo molto alto, sentendo qualche collaboratore, questo diventa un problema dopo. Grazie, grazie al procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, di essere stato con noi in questa puntata di Telebari Social Night. Qualche minuto di pubblicità e vi lascio ad Andrea Ravallese che parlerà, credo, non mi ricordo, di moda, di cultura, insomma qualcosa di interessante come sempre.